Per noi è una grossissima soddisfazione, motivo d'orgoglio aver messo in piedi questa manifestazione che è un qualcosa dedicato al ciclismo giovanile nella città di Fano, una gara che si svolgeva tantissimi anni fa a Centinarola ed era organizzata dai nostri padri, dai nostri nonni. Questa gara intitolata Primo Memorial Michele e Stefano è dedicata al ricordo di due ragazzi che pedalavano con noi e condividevano con noi la gioia della bicicletta, dell'andare in bici per cui è un motivo di grossissima soddisfazione. A livello nazionale sicuramente parteciperanno tutte le squadre del Centro Italia, quindi tutte le più forti squadre del Centro Italia, quindi una gara anche valida da un punto di vista tecnico, agonistico perché ci saranno tutti i migliori ragazzini del Centro Italia. Si parte dal cuore di Centinarola per poi proseguire lungo la selva, sbucare su strada di Carignano costeggiando Fenile per arrivare sino a Via della Fornace dove si gira poi percorrendola fino a Via Fanella per poi Via dei Condotti e ritornare su Via Brigata Messina. Questo è un circuito pianeggiante di 9 km che verrà ripetuto per 8 volte dai corridori. Dopodiché nell'ultimo giro ci sarà l'ascesa su Monte Giove con la parte più impegnativa che sicuramente farà la selezione. Noi abbiamo richiesto e comunque abbiamo il patrocinio anche della provincia di Pesaro Urbino e del Comune di Fano e la collaborazione ovviamente chiediamo di tutti perché le strade dalle ore 12 alle ore 18 saranno interdette al traffico nei momenti ovviamente di percorrenza della carovana e con un divieto di sosta per garantire al massimo la sicurezza dei ragazzi. Quindi chiediamo ovviamente la massima collaborazione ma penso che abbiamo fatto già un giro di comunicazioni e tutti sono entusiasti per poter far sì che ci sia questa bella giornata di sport che ci auguriamo sia veramente significativa.